Tutti ragazzi e ben ritrovati qui su Clash of Clans Allora ragazzi c'è stato l'aggiornamento Molti sono tornati a giocare a questo gioco Io intanto come potete vedere sono appena passato a TH9 proprio ieri che era mercoledì Sono passato a TH9 e come potete vedere ho già iniziato a costruire le prime cose Poi farò già il villaggio che mi servirà Dunque ragazzi in questo video voglio salutare Chiara Cure E non so se mi sono dimenticato qualcun altro fatemelo sapere nei commenti Che ho la testa tra le nuvole ultimamente Comunque ragazzi allora cosa stiamo aspettando andiamo a vedere il mio villaggio Ed eccolo qua Ho messo questa disposizione perché ormai mi attaccano in molti con i giganti da questo lato qua E così ho messo quelle trappole a scatto Poi il doppio cannone che fa il suo lavoro Il cannone che non è un cannone normale Comunque voglio farvi notare una cosa Forse in pochi l'avranno notato ma se noi andiamo tipo qua su un cannone o su una torre dell'arciere E uscirà questo pulsante Io subito ho pensato Oddio no veramente faranno veramente questa cosa non ci posso credere Non ci voglio credere E il cannone diventerà così Cioè Clash of Clans diventerà una cosa assurda E comunque voglio portarvi subito un attacco Anzi tre attacchi visto che ho il bonus disponibile Dunque Andiamo Vediamo un attimo Contro chi ci mette contro Vicky Allora Direi di fare così Vediamo un po' ragazzi come va Devo comprarmi il terzo accampamento Un gigante è già andato Ora va anche il cannone Ne è su almeno una stella forse No Manco per idea Spero solo che il mio avversario fa meno percentuale di me Allora io ho fatto 40% Vabbè mi sta bene Dunque come è andato a lui Sta ancora Oh Abbiamo vinto Vediamo un po' come ci ha attaccato Avrà attaccato da questo lato E quando mai mi attaccano tutti da quel lato E qua poi la difesa Fa il loro il suo lavoro Perfetto ragazzi Andiamo subito A farci il secondo attacco Appena possibile A questo punto scusate Faccio Jam un attimo Hashtag Si jamming Andiamo avanti Quanto tempo che non vi portavo Clash Royale Allora Qui come posso andare Con gigante e sgherri Quella tolle dell'alcerella non mi convince Vabbè andiamo gigante e sgherri No La difesa era Non l'avevo manco vista Che idiota No vabbè raga Sono un pollo Ormai lo sapete già Alessio 99 il pollo Lo sapete Dunque 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 Vabbè come va va Tanto Mi piace portarvi questi attacchi Raga Dunque Il gigante è andato a farsi friggere 8% Lui Vabbè sconfitta Ha fatto Ha fatto un po' più percentuale Però intanto Nessuna stella Come Che mi attaccano tutti da quel lato là Dunque Raccolgo un po' di risorse Vediamo un po' cosa posso migliorare qua Metto a fare I barbari Facciamo gli sgherri Che ce li ho ancora all'uno Un'ora Va bene Dunque con 59 Non spostare le mura Per favore Con 59 Mila Cosa posso Il cannone Sì Il cannone Va bene Due ore Il cannone fuori uso Va bene Sta facendo Ok Allora Nel frattempo Che fa un attimo qua Vediamo un attimo qui Come procede tutto Ok Non ho fatto niente proprio Ok Rieccoci Let's do it Allora Prendo gli arcieri E direi che forse così Sento puzza di trappola Allora Ci spedisco un gigante E ce ne vanno un altro Ok Qua il doppio cannone La faccio un attimo Così Il doppio cannone Si è svegliato adesso Che gli arcieri qua Hanno l'abilità Di diventare invisibili Dai 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 Forse Fai fuori quel cannone Fai fuori quel cannone Fai fuori la tesla Fai fuori la tesla No Vabbè dai Per poco Però Forse lo tristello Raga Forse No anzi lo bistello Non so come si dice Comunque forse due stelle Sono assicurate Si Due stelle assicurate Oh Raga 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 Forse No Bel giretto che hanno fatto Dai su distruggete quella cosa Allora Più percentuale è meglio 74% Distruggi 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 Si ragazzi Tre stelle Tre stelle E voilà Ci siamo quasi Mi mancano l'ultima cosa Da distruggere Eccola qua Distributore di gemme Hanno messo Il distributore di gemme La miniera di gemme Raga è qualcosa di assurdo La devo sbloccare assolutamente Tre stelle Il nostro avversario invece ha fatto Due stelle Con solo arcieri Inter Andiamo Allora Possiamo fare subito Il terzo attacco E andiamo a comandare Fate partire rovazzi Allora 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 Direi che forse Partire così Non è una pessima idea E un gigante Ha fatto volare No ragazzi È stata una pessima idea C'era anche la Tesla lì Dobbiamo solo sperare Che il nostro avversario Faccia di meno Cosa Improbabile Va bene Non fa niente Dunque Vediamo qua Com'è la situazione Raga Finalmente il TH9 Non ci credo Non ci voglio credere Da un pezzo L'aspettavo Dunque Anziché fare giganti Però metto Fare altri arcieri Che ci mettono Meno tempo Dunque Quanto ha fatto Il nostro avversario Si sa o non si sa Secondo me Ha fatto il 100% Raga Eh sì Secondo me Ha fatto il 100% Sono curioso Come Come lo ha fatto Dunque Dunque Alzo un po' il volume Ah Come Ah no Aspetta Questo è Aspetta No no Questo è il registro Non so neanche come L'ho messo Sta ancora Ad attaccare Oh Ma sta dormendo Questo allora Allora no raga Ma ha fatto 3 stelle Perché praticamente Ora c'ho il cannone Fuori uso Quindi non ho potuto Difendermi Granché Dunque Quasi quasi voglio provare A fare il suo stesso attacco Ho utilizzato solo Giganti pugili Voglio provarci pure io Vediamo un po' Cosa è stato Quello Non lo so Vediamo 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 E due giganti Già sono andati Via Raga Secondo me Ho fatto un epic Fail Ma di quelli Che non avete Idea 15% Ormai Tanto Con la torre Non andrà mai giù E va bene Lo stesso Mi sto divertendo A portavisti Attacchi Raga Non so quanti Ve ne posso portare Ancora Ma mi sto divertendo Secondo me Mi devo fermare qua Perché con questo Cannone fuori uso Non posso Difendermi Granché Dagli avversari Quindi devo trovare Una soluzione Metto gli arcieri Vedete raga Con il cannone fuori uso Non posso fare niente E quindi Secondo me Devo spostare Delle bombe Un po' qua Non ho Non ho Altra soluzione Eh raga Non vedo Altra soluzione Perché ora Col cannone fuori uso Per un'ora E anche questo Mi ha fatto Tre stelle Appena il cannone Tornerà Vedrete Se mi farete Ancora Tre stelle Forse ho fatto Mala Ad avviarlo Adesso Sicuramente Ho fatto male Dunque qua Posso rimuovere Questa Eppetta Che mi da fastidio E direi che possiamo andare Raga Torno subito Mi stanno chiamando Per il telefono Di casa Ma è pubblicità Raga Tutta pubblicità Ah Quanta pazienza Forse Forse raga No Non ce l'ho fatta Tre stelle Però Una buona percentuale Ce l'ho fatta Sicuramente Ora col doppio cannone Là mi fa tipo Un male terribile Da gigante Butto almeno giù La difesa Raga Ti prego Ti prego Niente Per poco Vabbè Vabbè ragazzi Se magari possiamo vincere No Non possiamo vincere Raga Mi dispiace Finchè il cannone Fuori uso Non posso portarvi Il bonus Completo Proviamo a fare Un attacco normale Direi che posso Concludere qua il video Allora Il tempo che trovo Un inattivo Raga Eh raga Direi che questo Va bene Allora Inizio Mettendo qua Un gigante Per distrarre La difesa Così Gli arcieri Fanno il loro Lavoretto Io ne metto Un altro Altri due Meglio Ok E gli arcieri Qua Hanno ripulito Poi Qua Altro gigante Bassigolone E metto E mando anche Il re barbara Spaccamura Tattici Così Allora Ragazzi La regina È la prima volta Che la sto per usare La userò insieme A voi Dunque Dunque Oddio Mamma mia Raga Come l'ho preso Il re barbara Dunque Altro gigante Qua Tattico E barbari Così Ok Raga Lo sto svuotando Qua metto La regina E altri giganti Per distrarre Il tutto Mi vado a prendere Anche questi estrattori E dovevo mettere I barbari Ma non fa niente E direi che ho preso Tutto Quasi Dovrei prendere Il municipio Ma non fa niente Anche se non faccio Il 50% Mi bastano Là le risorse Dai ragazzi Prendete Tutta quella Trivella Prendete tutto Tanto devo Solo farmare Ora Visto che sono Appena TH9 E così Ho finito Tutto L'esercito Va bene ragazzi Direi che Può andare così Come bottino 262 186 Delisito 833 Non fa niente Se perdo trofei Tanto Ne perderò Ancora E ancora E ancora E ancora Vabbè ragazzi Allora io direi che posso Concludere qua il video Vi do appuntamento Al mio prossimo video Scrivetemi qua nei commenti Chi vuole essere salutato Anche chi è già stato salutato Per me è un piacere Salutarvi tutti quanti E direi che Vi do appuntamento Al prossimo video Bella ragazzi Allora io direi che